C'è anche un consigliere, un ex assessore di Lecce, tra i 46 indagati nell'ambito dell'operazione portata a termine nelle scorse ore dalla Guardia di Finanza di Lecce. L'accusa presunto giro di corruzione nel settore della polizia locale della città. Tra i reati contestati, corruzione falso, accesso abusivo al sistema informatico. Secondo le indagini, numerosi verbali per infrazioni al codice della strada sarebbero stati annullati in cambio di regali. L'indagine risalirebbe ad alcuni anni fa e sarebbe stata rallentata a causa della pandemia. Infatti è partita nel 2019 e ha riguardato principalmente tre dipendenti della polizia locale di Lecce, due dei quali destinatari delle misure di interdizione e poi anche un imprenditore di una società municipalizzata di Lecce e uno della polizia provinciale. Secondo la ricostruzione investigativa del nucleo di polizia economico-finanziaria di Lecce avrebbero annullato e o archiviato verbali per violazioni al codice della strada. Oltre 500 i casi analizzati a un'ampia platea di persone legate da rapporti di amicizia o interesse. In cambio dell'annullamento dei verbali alcuni politici locali avrebbero ottenuto, spiega la Guardia di Finanza in una nota, il rafforzamento del consenso elettorale. Tra le altre utilità ottenute da chi riusciva ad annullare le multe c'erano poi biglietti per spettacoli pubblici, per le giostre, addobbi per matrimoni e servizi di trasloco. Le condotte contestate hanno interessato nel tempo anche il personale di altre pubbliche amministrazioni consentendo agli indagati di ampliare lo spettro di conoscenze e di relazioni in materia trasversale garantendo in un meccanismo di reciproca disponibilità allo scambio di favori l'annullamento degli atti amministrativi.